La digitalizzazione è un aspetto fondamentale, non è più una nuova frontiera, deve essere un'azione concreta giornaliera. I fondi delle PNRR ormai devono fornire soprattutto questo tipo di servizi e aiutare la pubblica amministrazione che poi avrà un effetto a cascata come ricaduta su quello che possono essere ovviamente la scuola e anche la sanità. Da oggi a Catania, in questo lunedì 9 ottobre, Deda Group dà uno spazio dedicato a tutto questo con Deda.next, nuovo punto di riferimento per la digitalizzazione per tutte le imprese e non solo. Siamo andati noi oggi a parlare con l'amministratore delegato Meloni e con il vicepresidente della regione San Martino. Vogliamo aiutare noi di Deda.next le amministrazioni pubbliche. In questo momento c'è la sfida del PNRR e c'è una missione dedicata alla trasformazione digitale delle amministrazioni pubbliche proprio nel PNRR e a nostro avviso un'amministrazione più digitale è un'amministrazione più vicina ai cittadini e anche quindi più inclusiva e più semplice. Ecco, spesso si sono anche un attimino un po' lamentate magari da parte appunto dei cittadini un po' quello che riguarda anche il livello sanitario per le prenotazioni, per le visite, per tutto quello che concerne ovviamente la salute. Anche questo è un argomento importante? Questo è un argomento importantissimo, lo sappiamo, e questo è un argomento che ci sta particolarmente a cuore. Noi abbiamo realizzato già diverse esperienze di piattaforma di televisita anche qui in Sicilia con alcune aziende sanitarie proprio per far sì che il rapporto tra il paziente e gli operatori sanitari sia più semplice sia nella prenotazione degli esami sia anche nel contatto con gli specialisti perché appunto la televisita permette anche la visita a distanza e il monitoraggio a distanza dei pazienti. Quindi noi crediamo fermamente in questo percorso di trasformazione e di digitalizzazione della sanità come una sfida strategica per il Paese. Il Paese nazionale investe e continua a investire, sintomo che la regione siciliana riesce a mettere in campo iniziative capaci ad adattare i colossi nazionali della telecomunicazione ma soprattutto ai servizi di digitalizzazione per le imprese. Oggi sempre di più insieme al PNNR, servizi necessari per migliorare la produzione dei servizi al cittadino e sono contento di un nuovo investimento qui nella città di Catania augurando che i sistemi informatici dei servizi pubblici e locali possano migliorare giorno dopo giorno nell'interesse pubblico ma soprattutto nell'interesse dei cittadini.